raccontare storie per vendere follia oppure una strategia di storytelling che risulta vincente beh ne parleremo proprio in questo video qui sul canale e se argomenti come il marketing copywriting business ti piacciono iscriviti perché per te è un'operazione semplicissima per me invece è un'operazione che permette di raggiungere tantissime persone come te e far volare questo canale youtube quindi grazie allora oggi parliamo di storytelling ovviamente la risposta alla domanda è una strategia di storytelling che funziona veramente bene ci sono alcuni tips da tenere in considerazione sono diversi ma in questo video te ne darò solamente tre quindi se vuoi vedere il proseguo di questa serie di questo format devi lasciare un like e un commento qui sotto così andrò a svilupparle con immenso piacere allora come stavamo appunto dicendo oggi parliamo di storytelling quindi l'arte di raccontare storie e raccontarle ovviamente in chiave marketing quindi a scopo di marketing a scopo di vendita voglio fare però una doverosissima premessa ovviamente le storie possono essere reali oppure inventate vanno contestualizzate e quello che voglio che venga chiarito immediatamente è che ovviamente non bisogna raccontare storie per prendere in giro qualcuno quindi mentire sul proprio percorso se stai lavorando di personal brand o raccontare follie che non si sono avverate o è una storia reale e la vuoi utilizzare oppure può essere una storia inventata ma fai in modo che si capisca che sia una storia inventata ok ovviamente uno potrebbe dire ah l'etica è mia decido quello che voglio ovviamente sei liberissimo però poi non stupirti se la tua community si ribella o se quel prodotto non vende ok è importante che tutto sia chiaro 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 qui sul canale ho parlato anche di rendere il messaggio semplice in un video super interessante per quanto riguarda poi il tema riuscire a catturare l'attenzione dell'utente quindi fai in modo che anche a livello di contenuto sia chiaro se la storia è inventata oppure se la storia è reale ok primissima strategia da tenere a mente storytelling quindi raccontare storie e fare in modo che l'utente sia catturato da quello che stai condividendo e ovviamente sia trasportato quindi sarà poi interessato ad approfondire l'argomento e continuare a leggere o a guardarti e la primissima strategia è ovviamente non dire tutto subito quando parlo di storytelling anche a livello di strategia di marketing una cosa che mi piace sempre sottolineare è come se fosse un menù ok sei al ristorante stai aprendo il menù il menù non hai ovviamente un unico pasto e basta hai un antipasto hai un primo un secondo i contorni i dolci tu sei liberissimo ovviamente di prendere solo una verdura un'insalata ed uscire così come sei liberissimo di prendere tutto però se tu prendi un antipasto difficilmente ti senti sazio come aver fatto magari tutto il percorso dove magari stai veramente tranquillo hai mangiato a sufficienza e quasi rischi di aver mangiato troppo ok la stessa cosa dobbiamo applicarla al nostro storytelling cioè non dobbiamo cadere nell'errore di svelare tutto subito lo storytelling in termini di marketing deve avere diverse funzioni la prima è quella di incuriosire tu hai davanti il tuo buyer persona come sempre mi auguro che tu abbia fatto l'esercizio e tu ti sia concentrato tantissimo sul capire chi è il tuo potenziale cliente ebbene devi riuscire a catturare la sua attenzione ma non devi dire troppo perché se vai a dire troppo se riveli tutto poi quella persona finirà per scappare perché ha già avuto tutte quelle informazioni oppure immaginiamo lo storytelling in una sequenza email magari la tua sequenza email è basata su 5 email se dirai tutto la prima perché dovrebbe aprire le altre 4 ecco questo è un interrogativo da porsi quindi la primissima strategia di marketing da tenere in considerazione quando andiamo a muoverci con dello storytelling che sia sotto forma scritta quindi ad esempio le mail o un format video o un'inserzione è quella di non dire troppo rapporta il tuo storytelling a una sorta di antipasto ti incuriosisco ti do quelle informazioni ma non ti dico tutto quanto perché perché voglio che ordini il primo il secondo il dessert e magari anche il caffè quindi andrò a incuriosirti certamente andrò a stuzzicare quello che è il tuo interesse ma non ti rivelerò tutto perché il mio obiettivo è fare in modo che tu continui a seguire ok seconda strategia fondamentale a tenere in considerazione quando andiamo a lavorare con lo storytelling è quello di emozionare la persona che sta dall'altra parte ripeto queste strategie che ti sto dando in termini di storytelling le puoi applicare a un contenuto scritto come una sequenza mail un blog una pagina di vendita o a dei contenuti audio perché magari è un podcast o a dei contenuti video perché magari è un canale youtube o stai facendo una sequenza di inserzione o una video sales letter quindi dove ci sarà un video di vendita ecco la seconda strategia potentissima quando racconti una storia è quella di far immedesimare chissà dall'altra parte e potresti dire ha le scoperto l'acqua calda certo io non guardo una cosa che non mi interessa sì ok ma soffermiamoci un attimino di più perché se sei capitato su questo video è importante rimarcare alcuni punti perché vuol dire che l'argomento ti piace ma non sei totalmente soddisfatto di quello che sta avvenendo in termini di vendite di conversioni nella tua strategia di marketing ora qui va sempre di pari passo con quello che è lo storytelling è importante far immedesimare la persona che sta dall'altra parte quindi andare a capire quelle che potrebbero essere le sue paure le difficoltà che incontrerà o che magari ha già incontrato gli ostacoli che ha dovuto superare gli imbarazzi le insicurezze e anche per l'altra faccia della medaglia quindi tutto quello che vuole raggiungere in termini di successi in termini di traguardi che cosa la farà sentire appagata questa persona che cosa la farà sentire realizzata è fondamentale impiegare tantissimo tempo per scendere in profondità nel comprendere quello che ha vissuto e sta vivendo e che vivrà il tuo interlocutore perché dall'altra parte hai un potenziale cliente quindi se vuoi fare in modo che l'attenzione che hai catturato nella fase iniziale nello storytelling con la prima strategia sia mantenuta poi nell'escursus è fare in modo che si immedesimi perché tu potresti fare un ottimo lavoro con uno storytelling dove catturi l'attenzione però poi manca la sostanza che attenzione non vuol dire rivelare tutto non fraintendiamoci vuol dire fare in modo che quella persona abbia ancora interesse nel seguirti e che vada avanti nel seguirti quindi che magari sia una sequenza video di cinque video pensa una serie tv su netflix innanzitutto prendiamo la strategia 1 se netflix ti dicesse chi è il colpevole già dalla prima puntata e ti spiegasse tutto probabilmente uno non servirebbero altre puntate ma non le guarderesti nemmeno perché hai già capito tutto 2 se non ti fossi in qualche modo immedesimato quella serie tv l'avresti chiusa avresti interrotto immediatamente perché non ti avrebbe interessato cioè l'avresti fin trovata noiosa ok quindi è importante fare immedesimare far pensare che alcune cose le hai vissute qualche sensazione magari la sensazione di paura la sensazione di insonnia o anche la sensazione che ti tremano le gambe dalla felicità o quelle sensazioni in cui ti commuovi perché una felicità talmente grande ecco poi ovviamente tutto questo va rapportato a chi è il tuo buyer persona chi è il tuo potenziale cliente per fare in modo che siano cose che anche egli o anche ella ha vissuto ok terza strategia che dal mio punto di vista è importantissima e l'ho tenuta alla fine perché è fondamentale soprattutto nelle sequenze mail nelle sequenze video e anche nelle pagine di vendita e per diversi anche nelle inserzioni se sono strutturate in un determinato modo ma prima di svelartela se questo argomento ti piace iscriviti al canale lascia un like beh la terza strategia è quella di lasciare un ponte aperto devi lasciare un'apertura prendiamo l'esempio delle serie tv perché penso che oggigiorno tutti abbiamo netflix o comunque dai se non abbiamo netflix abbiamo guardato una serie tv che sia su italia 1 su re 1 non lo so su netflix prime abbiamo talmente tantissime possibilità di guardare una serie tv che l'esempio è sicuramente incalzante per tutti allora abbiamo detto prendiamo netflix se netflix ti svelasse tutto al primissimo episodio tu non avresti motivo di guardare altri episodi ok perfetto la narrazione verrebbe meno sarebbe tutto scontato se non ti sentissi come abbiamo visto nella strategia 2 in qualche modo coinvolto o che quel contenuto ti interessa non lo guarderesti perfetto quindi diamo per assodato questi due punti arriviamo al terzo se non ci fosse motivo per arrivare all'episodio dopo tu non guarderesti assolutamente nulla prova a pensare una serie tv thriller o poliziesca dove nell'episodio 1 magari la tua attenzione è super catturata perché magari in un contesto che ti piace o c'è una sensazione che è vissuto che ti è familiare scopri che c'è un caso da risolvere sono proprio questi punti tra un episodio e l'altro che fanno in modo che la tua attenzione sia sempre lì e soprattutto che ti portino a voler guardare un altro episodio ti faccio un esempio in questo momento cioè in questi giorni sto guardando una serie tv che mi sta prendendo tantissimo e ovviamente la mia curiosità è di stuzzicata perché voglio andare avanti con gli episodi per capire che il colpevole è arrivare a srotolare tutta quella che l'ama tassa ok perché c'è questo interesse certo perché tutti i punti che abbiamo visto prima netflix è bravissima insomma a catturare l'attenzione a mantenerla alta ma e soprattutto perché alla fine di ogni episodio c'è un elemento che mi porta a dover guardare l'altro episodio ok provo a pensare a una sequenza video provo a pensare a una sequenza mail se tu finisci quella che la tua sequenza mail la tua sequenza video lanciando un amo a chi sta dall'altra parte dicendogli di non perdersi la prossima mail perché lì darai quel dettaglio x oppure di guardare il prossimo video perché magari scenderai ancora più in profondità o darai un altro punto di vista in analisi oppure guarderai un caso studio pazzesco insomma fai leva su quella curiosità la persona credimi arriverà a mettersi promemoria a fare in modo di dover necessariamente guardare quella risorsa che sia una mail quindi leggerla che sia un video quindi guardarlo eccetera eccetera è importantissimo quando lavoriamo con lo storytelling e soprattutto sfruttiamo le storie per vendere andare a creare questi ancoraggi in modo tale che la persona abbia il suo focus molto verticale su quello che abbiamo da comunicare su quello che abbiamo da consegnarle ok questo è importantissimo perché perché come abbiamo detto in svariati video qui sul canale il picco di attenzione è sempre più piccolo ok quindi la persona è sempre più portata a sfuggire a distrarsi eccetera eccetera se noi siamo bravi a catturare l'attenzione non farla sentire sazia avere una narrazione di un certo tipo e poi altre leve che magari racconterò in altri video anzi fammelo sapere con un commento o con un like se vuoi altri video su questo argomento sarò felicissimo di raccontarteli appunto facciamo in modo che la persona crei un'abitudine nei nostri contenuti che la curiosità sia talmente tanto amplificata a fare modo da fare in modo che la persona si fiondi su quel contenuto il prima possibile o appena viene reso pubblico non ci credi pensa a tutte le serie tv pensa alle collane di libri mi viene in mente Harry Potter e il signore Nelly certo sono collane di un certo spessore assolutamente ma sono proprio basate su questa curiosità ok arrivi al punto ma vuoi sapere che cosa succederà dopo perfetto stessa cosa la puoi applicare nelle tue strategie di marketing che siano magari basate sulle mail che siano basate sui video sulle tue inserzioni crea questi ancoraggi queste esplosioni di curiosità per fare in modo che la persona non veda l'ora di averne di più di saperne di più e che veramente sia impaziente con le mani che prudono per avere accesso a quel contenuto poi ripeto ci sono tantissime strategie nello storytelling e magari ne parleremo anche con altri video ma intanto focalizzati su queste tre che sono degli elementi chiave fondamentali ma questo non significa che siano scontati sono anzi potentissimi per fare in modo che il tuo buyer persona si fidelizzi sia veramente focalizzato su di te e che non veda l'ora appunto di avere accesso a quella risorsa che gli hai promesso e poi che la tua storia o la storia che hai preparato appunto per il tuo buyer persona possa vendere dalle lorenzi tutto e noi ci vediamo nel prossimo video